Ciao, sono Daniele e questo è Zurigo Italiana. Dopo una settimana di pausa dovuta a un po' di stress familiare, siamo di nuovo qui e oggi parliamo del tema di cui non vorrei parlare troppo spesso, ma che sta diventando sempre più attuale, prominente, anche a Zurigo, così come in Italia, per noi italiani. Un tema che è diventato sempre più importante e che purtroppo diventerà importante anche nelle prossime settimane e addirittura con l'arrivo dell'inverno, ed è il Covid. Cosa succede? Che in Italia ci sono misure restrittive molto forti e grandi proteste. In Svizzera ci sono proteste anche per quelle poche misure che ci sono, poche o tante che siano, insomma, misure inferiore comunque rispetto all'Italia. E mi chiedo dove sia la linea di efficacia di queste misure e, secondo voi, quale sia la direzione giusta che si debba prendere dal punto di vista individuale, non dal punto di vista governativo, perché in fondo non sono parte di nessun governo. Quello che mi è sempre piaciuto, da padre, insomma, forse mi comporterei diverso se fossi singolo e libero, però da padre e parte di una famiglia è cercare di trovare il cammino di minor rischio, se questo a minor rischio significa un compromesso col quale posso vivere. E ritengo che portare una maschera sia un compromesso con il quale posso vivere senza problemi. Ovviamente mi dispiace molto di più il fatto di non poter muovermi liberamente. Io sono sempre stato un grande fan dei mezzi di trasporto pubblici a Zurigo e adesso invece ho un po' quasi timore a prenderlo quando sono strapieni. E mi chiedo, secondo voi, quale sia la direzione che prenderà anche il governo svizzero. Ritengo che misure più forti possano aiutare, ma che la cosa fondamentale sia come si comporta ognuno di noi poi nelle relazioni personali, quante persone incontriamo, quanto liberamente, perché poi alla fine il virus si spande. Lo so che il virus non è letale per tutti e anzi per molti è una semplice passeggiata e che a volte è più il problema dato da misure di dover restare a casa, misure restrittive ed è quella la noia più che la malattia in sé che passa da sola e senza problemi. Però la verità è che sale molto il numero anche di persone che si fanno ospedalizzare, anche se non sarà magari il vostro caso, magari non sarà di qualcuno che conoscete, ma comunque gli ospedali si stanno riempiendo. E si parla già con grandi critiche anche a livello europeo, insomma, però di temi molto reali che sono usciti recentemente sui giornali anche qui in Svizzera, in cui si sghieda in Svizzera, che succede se non ci sono abbastanza letti di respirazione intensiva, insomma, a sufficienti per tutti. A chi dare la precedenza, no? Ed è una risposta difficile da dare, una risposta in cui non farai contento nessuno poi alla fine. Ma la risposta è stata la prognosi del dottore sulla possibilità di recuperare quella persona, è importante per dare la precedenza, e come fattore anche importante è l'età, per cui se una persona ha più di 85 anni certamente non sarà il primo della lista, ecco. E questo ha portato a grandi critiche, ovviamente, perché la vita è sacra. Ma se la vita è sacra e i letti però non sono infiniti, una decisione purtroppo bisogna prenderla lo stesso e speriamo che non si arrivi a quella decisione. Allora, per non arrivare a quella decisione, ognuno, io sono dell'idea, deve fare la sua parte, e lo so che dura tanti mesi, sono stanco pure io, sono stanco. Però bisogna cambiare, cambiare a livello personale, cambiare a livello di business, perché i ristoranti, potete immaginarvi in Italia in che crisi possono entrare, quanti chiudono, perché devono adesso fare soltanto da asporto dalle 18, per esempio, in Italia. Dalle 18 vuol dire perdere la cena, perdere il pasto principale, per un ristorante, la più grande entrata, per moltissimi ristoranti e la cena, no? Che rimango a fare. Allora però, quando è iniziata a febbraio, marzo questa crisi, hai pensato come sarebbe arrivato all'inverno? C'è anche questo fattore da mettere in conto. Questo non arriva come una sorpresa. Sono mesi che trattiamo con questo virus, se io, se ho un business di ristorazione, forse avrei dovuto prepararmi anche. Certo, le misure sono molto, molto pesanti per chi ha un business di quel genere. Bisogna essere, avere fortuna anche la possibilità di potersi trasformare, magari fare appunto da asporto, un business più da asporto, ma non sarà la stessa cosa. Quindi in Italia questo è il dramma. Io non credo che si arriverà mai a misure restrittive del genere in Svizzera, ma certamente ci saranno più misure che arriveranno anche questa settimana. Che cosa ne pensate voi? È un tema serio, è un tema delicato per alcuni, magari non per chi conoscete voi, ma per alcuni che ci muoiono, e per tanti che ci muoiono e che ci sono morti. Quindi se commentate, commentate anche con questo in testa. Alla prossima!